Buongiorno a tutti, siamo in Molise, per la precisione a Guardia Alfiera, sulla statale 647 che da Termoli porta verso l'entroterra in direzione di Boiano. Siamo qui per seguire un'attività molto particolare, siamo su un viadotto che è in fase di ristrutturazione e in questo momento si sta procedendo alla demolizione dello strato superficiale dell'impalcato in modo che possano essere alloggiate nuove barre d'armatura e possa essere poi gettato un nuovo strato di calcestruzzo. Questa demolizione viene effettuata mediante idroscarifica, cioè mediante la potenza dell'acqua in pressione. Andiamo a vedere come si realizza questa attività. Questo viadotto, come molti in Italia, è realizzato in calcestruzzo armato. Come tutti i materiali anche questo subisce gli effetti del tempo. Oltre al naturale invecchiamento, cioè la cosiddetta carbonatazione, sono soprattutto le influenze ambientali, i sovraccarichi statici o lo spargimento di sale nei mesi invernali a provocare i danni maggiori, sia al conglomerato che all'armatura. Per garantire la sicurezza del viadotto è dunque necessaria una manutenzione tempestiva e professionale del calcestruzzo. Il calcestruzzo vecchio deve essere rimosso in modo che le vecchie armature in ferro siano liberate e pulite dalla corrosione. Una volta rimossi i residui della demolizione si può applicare se necessario una protezione anticorrosiva e un nuovo strato di copertura in calcestruzzo. Quali sono i vantaggi dell'idro demolizione ad alta pressione? Innanzitutto si tratta di una lavorazione priva di vibrazioni, che evita quindi crepida tensione. In secondo luogo si può regolare abbastanza facilmente la profondità di scavo, ottenendo un risultato uniforme, cosa che con metodi meccanici è praticamente impossibile. La demolizione si esegue con robot, o dove necessario, con lance manuali alimentate da un'unità mobile totalmente indipendente ed insonorizzata, che è in grado di produrre getti d'acqua fino a 2500 bar di pressione e 250 litri minuto di portata. Per ridurre al minimo i tempi di lavorazione e quindi riaprire la strada al traffico regolare nel minor tempo possibile, si lavora anche di notte, operando con più squadre che si alternano a rotazione. Le attività qui in cantiere, come avete sentito, continueranno tutta la notte. Io per adesso vi saluto, se il video vi è piaciuto vi invito a mettere mi piace e a commentare, a farmi domande, a chiedervi qualsiasi cosa vi viene in mente e se questo progetto ovviamente vi sta piacendo, vi invito a iscrivervi al canale ed attivare la campanellina in modo da non perdervi nessuno dei video futuri. Io per adesso vi saluto, vi auguro una buona notte e a presto. Ciao ciao!